La Sardegna rischia di passare in zona gialla. Ha toccato la soia critica del 10% di occupazione in terapia intensiva. Con un solo ingresso ulteriore sforerebbe e passerebbe nella nuova fascia che prevede misure più stringenti, specie per chi non ha il Green Pass. Dopo la Sardegna le regioni con percentuali più alte sono la Liguria al 6%, il Lazio e la Sicilia al 5%. In quest'ultima preoccupa l'occupazione dei reparti ordinari all'11%, a meno 4 punti dal limite del 15%.